con il corso l'olio, con le pietre che ormai restano bene a tutti è molto dolce a differenza magari di altre pietre verdi, sempre legato al centro del cuore che sono molto ma voglio che mi stia anche per il colore perché lei mi ha avuto occhi azzurro che è bellissima quindi è diversa poi ne ho, di odio diverse questa è la coricina la coricina è allergica mi piacciono quasi cioè se vuoi solo pietre vai da qua la coricina è allergica e questa è la coricina questa è la coricina questa è l'agata però è un po' di no